Non desistete, ha detto a quanti fanno televisione, e soprattutto non scambiate, non fate gli alibi, non scambiate per realismo quella che è soltanto una resa, non accettate la legge dell'audience come se fosse l'unica regola, perché in fondo al cuore dell'uomo, questo è un discorso che ha fatto nel mese di settembre, c'è comunque una tendenza al bello e al buono, quindi anche in fondo ai gusti del telespettatore. La conclusione per uno invece, perché detta così dal Papa non sembra una predica, sembra piuttosto un suggerimento secondo una logica imprenditoriale dato dall'interno a chi fa TV per fare una TV ancora migliore anche in termini di successo e di audience. È vero o non è vero, visto da chi tutti i giorni si confronta duramente per stare sul mercato con la regola dell'audience come lei? Sì, è vero ma non è facile, perché certamente non è soltanto la violenza o la storia intricata che fa ascolto, ma il bello, il vero, quando si incarna in una figura come il Pontefice durante un telegiornale, durante un collegamento in diretta internazionale, eccetera, fa sicuramente molto ascolto. Poi non è così facile catturare l'ascolto in mezzo a una concorrenza che è altissima con delle storie che sono sempre soltanto espressione del vero e del bello. Io sono anch'io convinto che il vero e il bello premino sempre e che nelle proprie condotte uno deve essere sicuro che alla fine se si comporta bene, se sceglie appunto il bello, alla fine sarà premiato. Però la televisione è fatta di tanti momenti, è fatta anche lungo la giornata di tante situazioni, di stati d'animo del telespettatore. Diciamo che c'è un certo momento in cui lo spettatore è aperto alle news, c'è un certo momento in cui è aperto alla riflessione, prendiamo per esempio le trasmissioni della domenica mattina, in cui certamente una buona trasmissione che agiti problemi sociali, problemi religiosi, può incontrare anche una quantità di ascolto tra le persone che sono davanti alla televisione è rilevante. Ecco, però ci sono poi i momenti del divertimento, della voglia di dimenticare i fastidi della giornata, i momenti cosiddetti del prime time, in cui è difficile che argomenti di questo tipo, argomenti appunto di riflessione e di raccoglimento possano vincere la concorrenza di film, di fiction, di spettacoli anche da studio. Ecco, quindi credo che si debba tentare chi fa televisione, ce l'ha ben chiaro, di fare la televisione più lineare, più bella, più indirizzata al vero possibile, ma questo, ahimè, possibile non è sempre. Le chiedo in appendice a quest'ultima risposta se crede una sua esperienza, un riferimento a un fatto concreto, secondo la sua sensibilità, che poi strada facendo, lei si sarà costruita una sua bussola, dove passa il confine tra il buon gusto e il cattivo gusto, tra la volgarità il cattivo gusto, in tv. Il cattivo gusto è quello che ti fa avere una reazione negativa. Perché lei è anche uno che dice sospendete, no? Sì, io qualche volta l'ho fatto anche con spettacoli che erano già completati e quindi ho evitato che fossero messi in onda. Io le dirò, ho un criterio molto semplice, tutto ciò che io vedrei con fastidio di fianco ai miei figli e a mia moglie, tutto questo mi pare non si possa annoverare dentro ciò che è segnato dal buon gusto. Lei fa gruppo d'ascolto con i suoi familiari la sera a casa, quando riesce a stare a casa? Quando riesco a stare a casa vedo la televisione con i miei figli e sono convinto che la televisione sia un grande mezzo anche per stare insieme e per far nascere e coltivare lo spirito critico dei propri ragazzi. Difficilmente si può fare questo con un giornale, con un libro, difficile bisogna proprio mettersi lì a leggere un libro insieme e lo si può fare qualche volta, non sempre. L'abitudine invece dell'ascolto televisivo è un'abitudine quotidiana e quindi i ragazzi possono trarre grande giovamento da un genitore che si preoccupi di loro, della loro formazione attraverso la visione comune, criticando, sottolineando, spingendo alla critica i ragazzi e i bambini o i ragazzi che questo spettacolo vedono con lui. Mi sembra invece un grande errore lasciare i ragazzi, i bambini soprattutto, da soli di fronte alla televisione e questo è una cosa che bisogna assolutamente sconsigliare. I bambini e i ragazzi vanno stimolati allo spirito critico, è vero. Sa che talvolta anche i grandi hanno bisogno di essere stimolati allo spirito critico? Il Papa ha ricevuto un gruppo di giornalisti cattolici che fanno tv e gli ha detto la vostra prima preoccupazione, il vostro primo dovere è quello di dire la verità. Poi in seconda battuta, se credete, quello di evangelizzare, ma prima la verità, contro ogni condizionamento, questo è un bel comandamento laico, non c'è dubbio che possiamo far nostro perché soddista anche la coscienza dei non credenti, di tutti, ecco, in teoria. Nella pratica, soprattutto nella sua posizione, alla guida di un grande gruppo che quotidianamente si confronta e si scontra con gli altri poteri politici, economici, è possibile questa, la verità? Beh, deve essere possibile, questo d'altronde è il comandamento che come editore io ho sempre dato ai professionisti dell'informazione, sia nella televisione, sia nei giornali del mio gruppo e devo dire che è stato seguito e viene seguito, purtroppo quello che invece la prassi di questo momento così generale si allontana molto da questa indicazione, che è anche l'indicazione, lei ha detto bene, laica, di un giornalismo corretto, una volta si diceva del giornalismo anglosassone che dà la verità prima e se deve dare un parere dà il parere dell'una o dell'altra parte. Ecco, oggi il giornalismo che ci circonda direi che in massima parte non è così, c'è stata anche la teoria che la verità non è la prima cosa che si deve mettere in pratica, ma che anzi la lotta politica per esempio deve indurre a mettere al primo posto l'interesse politico, ci sono anche affermazioni purtroppo famose di chi diceva che la verità è qualcosa che attraverso i media si costruisce, basta ripetere tante volte la stessa cosa ed ecco che quella cosa passa per essere vera. Lei sente di averlo corso questo rischio qualche volta guardando indietro? Non per quanto ci riguarda, anzi io dico che per quanto mi riguarda io ho sempre avuto un grande rispetto del pubblico e quindi della verità, ho sempre insistito perché non si utilizzassero i mezzi di stampa per attaccare qualcuno o qualcosa, molto spesso devo dire sono stato vittima di un trattamento di questo genere e tuttavia credo che non si debba neppure quando si è vittima di un trattamento si fatto, non si debba utilizzare lo stesso sistema neppure per rispondere, quindi io credo che il monito del Papa sia un monito attualissimo e credo che varrebbe la pena che ci fosse più attenzione a questo monito perché avremo tutti da guadagnarne grandemente.